Questo bambino ha la febbre e non può alzarsi dal letto né per andare a scuola né per giocare. Tutti ci amariamo di quando in quando. In molti casi le malattie sono causate da germi tal... Questi germi teri sono piccole forme viventi diffuse un po' dappertutto, anche nell'aria che respiriamo. Ecco come ci appaiono all'ingrandimento del microscopio. Fortunatamente il nostro organismo ha diversi mezzi per difendersi contro i batteri patogeni che sono quelli che provocano le malattie. Il primo di questi mezzi è costituito dalla pelle che riveste per intero il nostro corpo. Così appare molto ingrandita una sezione trasversale della pelle. Lo strato superficiale di essa si consuma continuamente, ma dagli strati inferiori nuove cellule salgono a sostituire le vecchie. Finché non vi sono lesioni sulla pelle i batteri non possono penetrare facilmente nell'organismo. Ecco perché è indispensabile per cura ed igiene della pelle. Tuttavia i batteri hanno modo di penetrare nell'interno del nostro corpo attraverso il naso e la bocca. Anche naso e bocca, gola e trachea sono però rivestiti da una leggera membrana protettiva chiamata mucosa. Essa è bagnata da un liquido vistioso in continuo movimento, il cui nome è muco. Il vissegno mucra come le impurità e i batteri vengano catturati dal muco e vi restino invistiati fino al momento della loro espulsione del corpo. Se ci tagliamo o anche semplicemente ci graffiamo, apriamo un passaggio ai batteri. Ecco dunque che inizia la lotta contro di essi con una infiammazione. La zona intorno alla ferita gonfia e si arrossa. Questo significa che i globuli bianchi del sangue sono entrati in azione. Passando attraverso le sottili pareti dei piccoli vasi sanguigni, essi raggiungono il tassuto ferito e attaccano i batteri. Al microscopio potete osservare come i germi patogeni sono aggrediti e distrutti dai globuli bianchi. Essi costruiscono addirittura una barriera e con l'aiuto di altri muri presenti nell'organismo formano una rete intorno agli apparitori. L'infiammazione va quindi gradatamente scomparendo fino alla guarigione completa. Un altro metodo di difesa è costituito dal sistema linfatico. Supponiamo che un chiodo in petto punga la nostra pelle introducendo batteri nel corpo. Un liquido chiamato linza convoglie i germi nei nodi linfatici, una specie di tracola composta di moltissimi canaletti tappezzati da milioni di globuli bianchi. Questi entrano in funzione e gradatamente distruggono i batteri. Tutto il nostro corpo è ricco di vasi e di nodi linfatici. Deve sono ad esempio nel collo, nel torace, attorno allo stomaco e all'intestino. A volte ci sia male perché i batteri riescono a superare tanto la prima quanto la seconda linea di difesa, però l'organismo ha ancora altre possibilità di lotta. Infatti può opporre una terza barriera difensiva di cui fanno parte l'apparato circolatorio, costituito dal cuore e da tutti i vasi sanguigni, il fegato e la minza. In questo disegno potete osservare il sangue mentre circola in un vaso sanguigno sano. Le sue pareti sono tanto forti da impedire ai batteri di introdursi in altre parti dell'organismo. Ecco come i batteri vengono trasportati dal sangue. Seguendo il flusso circolatorio entrano nella parte destra del cuore, passano attraverso i polmoni, raggiungono la parte sinistra del cuore ed infine sono trasportati in tutto il corpo. Raggiungendo il fegato e la minza, che hanno la funzione di filtri del sistema circolatorio, i batteri vengono in contatto con i globuli bianchi. Infatti in queste due ghiandole il sangue scorre lentamente attraverso molti tretti passaggi tapezzati di globuli bianchi, i quali attaccano e distruggono i batteri. Questa è la ragione per cui consideriamo il sistema circolatorio come terza barriera di tensiva del nostro organismo. Ma ne esiste anche una quarta. Spesso dopo che siamo stati ammalati, il nostro sangue contiene sostanze chimiche che sono state prodotte dall'organismo per combattere i germi che hanno provocato la malattia. Queste sostanze si chiamano anticorpi. I medici in diversi casi stimolano il nostro organismo a produrre anticorpi mediante la vaccinazione, che si effettua iniettando una determinata dose di germi. Questa dose, pur essendo troppo debole per farci ammalare, è sufficiente per produrre anticorpi nel sangue. Per comprendere meglio, osservate il disegno. I punti neri sono i germi e le figure grandi rappresentano i globuli bianchi. In questo caso i globuli bianchi non si dimostrano capaci di attaccare i germi e distruggerli. I bastoncini neri che vedete sono gli anticorpi. Essi attirano i germi incorporandoli a gruppi e si appasi l'impressione che si siano alleati con loro. Mentre in realtà forniscono ai globuli bianchi la possibilità di aggredirli. Gradatamente i globuli bianchi distruggono i germi, mentre gli anticorpi rimangono nel sangue pronti a proteggerci dagli eventuali futuri attacchi della stessa malattia. Dopo la vaccinazione, alla quale dovremmo sottoporci tutti, nel nostro sangue cominciano a svilupparsi degli anticorpi che ci proteggono, almeno per un certo periodo, dalla malattia contro la quale siamo stati vaccinati. In questo film abbiamo visto quali sono i principali mezzi di difesa del nostro organismo contro le malattie infettive, che sono quelle provocate dai batteri. Primo, la pelle e il buco, che impediscono alla maggior parte dei batteri di penetrare in profondità nei tessuti del corpo. Secondo, il sistema linfatico, che cattura quelli che sono riusciti a superare la prima difesa. Terzo, il sistema circolatorio, che filtra i germi. Quarto, gli anticorpi, che rimanendo nel sangue ci salvaguardano da ulteriori attacchi della stessa malattia.